ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video e ovviamente dopo aver recensito la regina anna la queen of arendelle andiamo a recensire questa elsa in versione regina delle nevi da frozen 2 ovviamente limited edition del disney store parto già dicendovi che in questa recensione ci saranno un bel po di critiche quindi direi di partire subito anzi se non avete visto ancora la recensione di anna e volete andare a vederla ve la lascio qui sopra e ora possiamo effettivamente partire con la recensione andiamo subito a vedere la sua scatola la forma della scatola di elsa è molto molto simile alla forma della scatola che aveva anna con l'unica differenza che ovviamente i colori sono completamente diversi infatti in questo caso abbiamo tutta la scatola sulle tonalità dell'azzurro e dell'illa con anche qualche punto viola nella parte superiore della scatola oltre al logo della disney qui nell'angolo possiamo vedere un sacco di decori bianchi che circondano tutta l'apertura di questa scatola e oltre a questi decori bianchi ci sono anche questi decori diciamo che sembrano quasi su questo nastrino quasi una cornice lilla e come vedete anche nel suo caso proprio come per anna ha tutto questa texture un pochino perlata quasi lucida nella parte inferiore della scatola vediamo di nuovo questi dettagli bianchi questo decoro viola con dei fiocchi di neve all'interno e qui al centro c'è la scritta elsa the snow queen edizione limitata una di 8500 infatti di questa elsa le hanno fatte 500 in più confronto ad anna non ho mai capito in base a cosa vengono scelti i numeri di produzione ma comunque questa è una di quelle che è stata prodotta in numero maggiore su entrambi i lati della scatola ci sono queste aperture trasparenti che ci lasciano vedere all'interno la bambola in questo caso c'è stato stampato sopra qui sulla plastica anche questo fiocco di neve questo decoro a forma di fiocco di neve e posso già farvi vedere lo vedete sicuramente molto bene qui sopra che il disney store ha trattato questa scatola veramente molto male infatti se vedete questi segni non sono voluti non sono effetto neve sono tutti graffi che sono stati fatti proprio per una non curanza diciamo un maltrattamento della scatola e come vedete si ritrovano su tutto il bordo della scatola sia da questa parte che da questa parte scendendo nella parte inferiore ritroviamo ovviamente questo decoro qui sopra alla plastica questi decori questi dettagli stampati sempre sul lato ma nella parte inferiore ma soprattutto possiamo vedere ancora meglio quanto questa scatola sia rovinata se vedete la parte qui sotto risulta più chiara perché è stata tutta completamente graffiata e non capisco come mai semplicemente sono state tenute veramente malissimo anche nella sua scatola come in quella di anna nella parte superiore troviamo questa apertura trasparente con la scritta frozen 2 nel suo caso però come avete visto tutti i dettagli stampati sulla plastica sono in bianco e non in oro come per anna secondo me se li avessero fatti argento sarebbe stato un tocco veramente carino però comunque sono belli ritroviamo il nostro nastro di raso per portarcelo in giro non so cosa farcene e di nuovo tutti questi decori a fiocco di neve su tutto il bordo anche sul retro ovviamente ritroviamo gli stessi identici colori che caratterizzano tutta questa bambola e nella parte superiore oltre a tutti i dettagli bianchi intorno a questa specie di cornice possiamo leggere anche la scritta frozen 2 un pochino più in basso ritroviamo il nostro filo di raso che andiamo subito ad aprire dove sotto vediamo che c'è anche in questo caso la descrizione della nostra bambola in inglese e in francese lascio un attimo qui anche la descrizione di elsa per chi volesse leggerla come sempre non sto qui tradurvela se no ci metterei due anni nel caso mettete pausa nella parte inferiore della scatola ci sono dei dettagli dei decori ci sono delle informazioni che non ci interessano ma soprattutto in questo rombo ci dicono che all'interno c'è un certificato di autenticità come in tutte queste bambole limited edition anche in questo caso possiamo rimuovere la parte davanti della scatola per vedere meglio la bambola al suo interno e possiamo vedere che sono stati riproposti anche qui sulla plastica questi dettagli bianchi questi fiocchi di neve che ritroviamo ovviamente anche nella parte inferiore della scatola dove vediamo anche la scritta elsa the snow queen rimuovendo anche la parte di plastica possiamo vedere meglio lo sfondo della scatola dove ci sono tutti questi cristalli blu che circondano la bambola quando lei è dentro alla scatola devo dirvi che questo sfondo non mi fa particolarmente impazzire avrei fatto forse qualcosa di più carino andando ad estrarre anche lo sfondo troviamo il certificato di autenticità che come sempre è all'interno di questa bustina da una parte scritto in francese e dall'altra scritto in inglese e qui possiamo vedere che la mia elsa è la numero 5866 di 8500 ora però come sempre andiamo a mettere via il certificato la scatola prendiamo la bambola e iniziamo a guardarla bene insieme iniziando a guardare il suo viso vediamo che anche nel suo caso in questa versione le hanno fatto gli occhi di lato infatti questa bambola guarda lateralmente e come sapete ormai è una cosa che non mi fa particolarmente impazzire perché preferisco di gran lunga le bambole che guardano frontali detto questo il suo viso non è male le sono ricomparse le lentiggini ovviamente messe completamente a caso infatti come vedete ha delle lentiggini qui quasi appiccicate all'occhio quando qua praticamente non ne ha la sua carnagione ovviamente è molto chiara ha del blush sulle guance e sul naso ha un rossetto praticamente fucsia e sugli occhi ha un ombretto viola il suo solito ombretto viola ovviamente anche in questo caso le hanno piantato le ciglia proprio le ciglia piantate peccato che come vedete questa ciglia la sua sinistra è anche discreta quella destra è praticamente un disastro si dovrebbe riuscire a vedere che è proprio completamente a caso ed è un peccato ragazzi perché anche se sembra un pochino strabica comunque questo viso sarebbe veramente molto bello anche nel suo caso hanno disegnato dei piccoli peletti sulle sopracciglia per renderle più naturale e quello lo sapete è un dettaglio che mi piace sempre tantissimo ovviamente non indossa alcun tipo di orecchino e come avete visto in questa versione Elsa ai capelli sciolti sono veramente chiarissimi per fortuna non hanno il colore delle prime limited che sono uscite che erano tipo gialli pannocchi ed erano bruttissimi sono sciolti e qui alato a queste ciocche un pochino più corte che dovrebbero simulare il suo ciuffo completamente piene di gel ma vabbè ci può stare non sono tagliate benissimo se vedete sono un po buttate a caso ma ci accontentiamo qui davanti ha questo boccolo che l'avevano attaccato al braccio con un filo io ovviamente l'ho staccato come ho staccato tutto il resto è completamente pieno di gel ma oltretutto come vedete non è neanche fatto bene alla fine si divide e qui è più sottile qui è un po più largo insomma vabbè bisogna accontentarsi la cosa purtroppo un po più drammatica è il retro dei suoi capelli perché questi ragazzi sono i capelli di Elsa appena uscita dalla scatola a vederli in videocamera non sono poi così male effettivamente ma vi assicuro che sono abbastanza un disastro e forse qui riuscite a notarlo sono completamente tutti schiacciati non hanno una forma la fibra non è una fibra bellissima è una fibra molto strana non so se ho mai sentito una fibra del genere ma come vedete comunque non hanno un'acconciatura non hanno niente di particolare sono semplicemente un pochino riempiti di gel e basta riempiti di gel non ho capito per cosa se poi il risultato è tipo questo passando però a guardare il suo vestito nella parte superiore devo dire che non è neanche fatto troppo male come sempre ragazzi se vedete che la bambola dondola è perché lo stand fa schifo ma lo stand del disney store fa schifo dicevo che appunto questa parte non è male è carino ha dei bei dettagli come vedete sono stati applicati dei brillantini che riflettono la luce in un modo particolare infatti sembrano quasi iridescenti ci sono disegnati questi rombi di diversi colori che se non sbaglio sono le pietre degli elementi e se noi li guardiamo in controluce vediamo anche che riflettono un pochino sono quasi perlate qui nella parte superiore sopra il seno vediamo che è composto da due stoffe una sotto più coprente bianca che credo sia del raso e una sopra che è trasparente fatta di organza sempre con anche qui questi brillantini applicati non è male ma secondo me potevano farlo un pochino meglio la cosa di questa parte del vestito che sicuramente non mi piace è questa cucitura che ha in vita che fa sembrare che abbia addosso un grembiule è veramente bruttissimo soprattutto visto che nel film questa zona del vestito non ha alcun tipo di cucitura ma è super completamente liscia fino in fondo e che sono riusciti a renderla senza cucitura anche nella bambola classic nella bambola play line in questo caso questa cucitura è veramente bruttissima e a me una Elsa col grembiule sinceramente non interessava le sue maniche che nel film sono completamente bianche in questo caso sono state fatte con questa organza trasparente con sopra questi dettagli bianchi con dei glitter argentati il dettaglio qui sulla spalla devo dire che non è per niente male è molto carino però effettivamente lei avrebbe le maniche bianche e non trasparenti però ragazzi sappiamo che ci dobbiamo anche accontentare guardando la parte superiore del vestito sul retro vediamo che continuano i rombi colorati ma assolutamente non i brillantini almeno si sono sprecati di metterci i rombetti colorati visto che ultimamente il disney store dove può evita di inserire cose intanto sono nascoste scendendo un pochino più in basso nel vestito possiamo iniziare a notare la cosa veramente più brutta di questa bambola che se fosse stata fatta bene sarebbe stata sicuramente anche la cosa più bella e sto parlando della sua gonna è la cosa più brutta soprattutto per il tessuto che hanno utilizzato perché come vedete qui nella parte bianca che è fatta praticamente di soli glitter con attaccati anche dei brillantini questa parte è rigidissima e sembra completamente di plastica io se provo a piegarla guardate fa proprio l'effetto della plastica bisogna infatti fare molta attenzione perché se noi schiacciassimo tipo una piega così questa prenderebbe la forma e probabilmente non la toglieremo mai più ma è veramente una cosa bruttissima se io vado a girarla e vi assicuro ragazzi è veramente molto rigida guardate vedete che appunto questo tessuto è una cosa oscena all'interno non riesco a farvela vedere da tanto che è rigida all'interno è foderata con della stoffa trasparente bianca leggermente trasparente quindi oltre ad avere quella bruttissima cucitura è anche un tessuto veramente orrendo scendendo ancora un pochino nella gonna vediamo che hanno realizzato queste specie di punte bianche dove hanno inserito un sacco di brillantini solo nella parte della punta e tutta questa parte bianca è stata stampata sopra questa stoffa lilla dove sono stati ricamati questi quattro rombi colorati che riprendono quelli che aveva sul busto la parte qui in fondo devo ammettere che non è per niente male infatti se vedete qui il tessuto è morbido è un bel tessuto avrebbero dovuto farla tutta almeno di un tessuto così se non addirittura migliore purtroppo questa parte è un pochino mitragliata da tutti quei cosine di plastica che ci mettono per farla stare ferma in scatola ma comunque devo ammettere che questa parte è carina peccato appunto per la parte bianca che risulta di plastica lo stesso problema del plasticoso lo notiamo qui dietro dove vediamo che praticamente questa è la piega che ha il suo vestito e si fa fatica a togliere perché era stato in scatolato malissimo e di conseguenza se noi proviamo ad andare a sistemarlo guardate è talmente rigido che lui dopo un secondo torna alla forma di prima è una cosa veramente imbarazzante so che qualcuno di voi l'ha stirato io ho un po di ansia ma forse ci proverò anch'io perché questa è veramente una cosa ragazzi inaccettabile cioè è bruttissimo se provo anche un pochino a modellarlo una volta che lo mollo guardate ritorna alla forma che aveva prima plastica 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 se andiamo ad aprire il suo grembiule di plastica questa specie di tendone da circo vediamo che indossa dei bruttissimi leggings io dico bruttissimi perché purtroppo ragazzi non sono un amante dei leggings sotto alle gonne se hai una gonna ti tieni le gambe nude ed è una cosa che proprio non mi piace come scelta stilistica nel vestito però ovviamente avendolo messo nel film dovevano metterlo anche in questa bambola e questi leggings sono assolutamente reciclati dalla versione diciamo da viaggio di elsa che se volete vedere vi lascio qui sopra visto quello già recensita dopo aver visto dei leggings orrendi e semplicissimi vi mostro che l'è tornata la gotta a dei problemi non indifferenti alle caviglie di gonfiore e ritenzione idrica evidentemente dei bruttissimi piedi e delle bruttissime scarpe le sue scarpe sono già particolarmente brutte nel film ma qui sono diventate una cosa veramente orrenda non ho capito perché in entrambe queste bambole abbiano deciso di mettere questi piedi e non i piedi quelli diciamo senza l'articolazione la caviglia e fare una scarpa leggermente più carina queste scarpe sono veramente terribili e in più ragazzi come vedete anche lei vola allegramente sul suo stand praticamente ci passa un dito tra i suoi piedi e lo stand concludiamo però parlando del suo mantello come sapete elsa sempre il mantello diviso in due parti infatti possiamo vedere che sono stati cuciti i due pezzi di stoffa qui ai lati della sua schiena e iniziano in questo colore che è un lilla quasi bianco per poi pian pianino sfumare diventare sempre più scuro fino a diventare praticamente un lilla quasi viola come vedete questo mantello è stato piegato in tre parti in modo da dare questo effetto un pochino più carino e la fine non è pari ma è diciamo obliqua tagliata obliqua devo ammettere che questa parte è la parte di questa bambola che preferisco qui in fondo nella parte finale hanno aggiunto dei ricami con questi rombi argentati ma soprattutto oltre ad aver applicato dei brillantini un pochino a caso che non se ne capisce bene l'utilità come vedete lungo tutte le due parti del mantello ci sono questi rombi che sono praticamente cangianti infatti se li guardiamo bene da bianchi diventano azzurri quando riflettono la luce purtroppo in video non si riesce ad apprezzare bene come dal vivo ma questa cosa è veramente un tocco bellissimo lo devo ammettere peccato che l'abbiano inserito solo in questa parte del vestito quindi ragazzi questa era la recensione della snow queen elsa limited edition del disney store tratta da frozen 2 iniziamo dicendo sono un fan di questo vestito anche nel film questo vestito non mi piace non trovo che abbia l'eleganza del primo vestito di elsa o di tutti gli altri vestiti di elsa dove comunque lei risulta molto femminile a parte il vestito da viaggio negli altri vestiti risulta sempre molto femminile molto elegante molto regina e quindi molto regale in questo caso sinceramente ho trovato la scelta del vestito già nel film abbastanza scialba tutto questo bianco non mi è piaciuto particolarmente e soprattutto il fatto che non abbia dei tacchi ma delle ciabattine non mi piace per niente dei sandaletti e ancora meno mi piace il fatto che abbia i leggings e infatti credo che in questa mia bambola i leggings andrò a toglierli detto questo che a un parere puramente soggettivo questa bambola ha un sacco di difetti come avete visto non ha difetti di cuciture come invece abbiamo visto in anna che la gonna si sfilacciava completamente ma dei capelli che sono veramente acconciati malissimo e nel suo caso essendo dei capelli sciolti era molto semplice metterle una fibra leggermente mossa e in scatolarla in un modo decente invece loro sono riusciti comunque a fare un casino la stoffa utilizzata per il vestito è veramente orrenda come avete visto è completamente plastica se notate anche solo da qua si può notare che il vestito non cade bene e ho cercato di metterla nel migliore dei modi per fare questa ultima ripresa ma purtroppo essendo di plastica riprende la forma di com'era in scatola ho paura che si possa rovinare molto facilmente essendo appunto così rigido non mi piace la scelta del corpo che hanno utilizzato come anche non mi piaceva per anna nel suo caso ancora di più visto che i piedi si vedono e le scarpe che le hanno messo sono veramente tremende sono qualcosa di orrendo e poi se vogliamo non posso accettare di avere una bambola da 110 euro con un tessuto del genere tutti questi difetti che vi ho elencato e in più anche con un occhio con delle ciglia finte completamente rovinate è una cosa ragazzi che per me è inaccettabile questa è la prima vera bambola limited edition che trovo inaccettabile a vederla così adesso sicuramente è carina fa anche un po di scena ma sinceramente a me risulta sempre una Elsa con un grembiule bianco quando è stata annunciata questa bambola le mie aspettative erano altissime pur non piacendomi il vestito perché avendo visto in precedenza cos'è riuscito a realizzare il Disney Store avevo pensato che sarebbe stata una cosa comunque veramente molto bella anche perché veramente bastava semplicemente cambiare un tessuto e il tutto sarebbe diventato perfetto e stupendo sarebbe potuta essere una delle limited più belle in assoluto se solo avessero preso un tessuto leggermente meno plasticoso in ogni caso ragazzi spero di avervi detto tutto proverò sicuramente a sistemarle i capelli ma non vi assicuro nulla perché purtroppo la fibra come vi ho già detto è una fibra molto particolare ho paura di rovinarla secondo me è una delle fibre più scadenti che abbia mai visto ma purtroppo loro credono che la gente sia talmente rincoglionita da tenerle solamente in scatola e quindi da non accorgersi di tutti questi materiali così economici così scadenti che utilizzano ma poi ci sono alcune persone come me che per fortuna dicono la verità e stanno a guardare i difetti a differenza di molti altri youtuber che come già sapete hanno detto che questa bambola è stupenda in ogni caso ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere lasciando qui un like fatemi sapere anche cosa ne pensate lasciandomi qui sotto un commento io vi ricordo che sono anche su facebook e su instagram intanto vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video